salve a tutti amici di crypto jam e benvenuti a un'altra puntata allora oggi volevo vedere un po di notizie economiche su bitcoin volevo vedere anche il prezzo dove sta andando perché gli ultimi giorni ovviamente abbiamo fatto ottimi trade sui supporti quando bitcoin è tornato ovviamente la double top che avevo individuato qualche giorno fa e condivisa con voi è andato a giocare per un breve periodo di tempo essendo comunque che era su un time frame più basso non ha avuto grande impatto sul prezzo anzi si è fermata proprio vicino alla zona di accumulo precedente che è questa qui e non l'ha superata mi aspettavo sinceramente un ulteriore ribasso verso questa zona qui dove si sta creando questo ascending triangle come vedete questo è un pattern solitamente bullish quindi rompendo rialzo dovrebbe dare un segnale rialzista diciamo verso l'alto però stiamo a vedere lo stiamo osservando da un po abbiamo fatto degli ottimi trade abbiamo preso dei supporti buoni ci sono quasi tutte le coin ritornate sui loro supporti per esempio solana è tornato sul supporto a 90 che avevo individuato un po di tempo fa con i ragazzi sul disco se vi interessa ragazzi un po di analisi tecnica fatta bene e vi interessano dei segnali ovviamente unitevi al disco e lascio qua sotto il link come vedete la tornata vicino ai 90 dove c'era questa trend line qua che stavamo guardando è molto vicino al cosiddetto golden pocket che è la zona vicino al golden al golden poi in questa zona qui il golden ratio scusate il golden ratio è una zona tattica che io uso spesso per i miei fibonacci e oltre a questo abbiamo visto un sacco di notizia ultimamente vedo un sacco di paura della gente in giro ed è proprio quello che loro stanno cercando di raggiungere la paura per far sì che voi svendiate oppure la gente svende a priori che voi abbiate paura no vedo che molta gente svende per l'incertezza sul mercato e andiamo a vedere un po di notizie alcuni allora alcuni motivi per comprare scambiare le criptovalute beh andiamo a vedere alcune adesso abbiamo visto adesso in canada ci sono degli scontri comunque ci sono delle proteste per le misure anti covid e il governo canadese vuole mettere lo stato di emergenza quindi togliere dei diritti diciamo ai cittadini per farli anche smettere di fare queste cose e vi dico non è una situazione tra il migliore l'abbiamo vista in molti paesi è successo anche in italia e sicuramente ragazzi l'instabilità economica si sta sta arrivando guardate qua anche in paesi come il canada è un motivo in più secondo me non per vendere perché molti dicono ok vendiamo bitcoin e le cripto questo è proprio il motivo per il quale bisogna comprare o holdare sulle cripto perché gli scambi tra queste persone quando ci sarà l'inflazione a mille ma poi arriverà con questa crisi economica quando ci saranno scontri incertezze sull'economia di un paese che comunque poi essendo che bitcoin non è backed da nessun paese quindi non fa parte di nessun paese preciso quindi quando per esempio i canadesi si hanno dei problemi e il loro governo succede qualcosa il paese ha delle instabilità economiche o politiche e diciamo la loro moneta perde valore o succede qualunque cosa non so bloccano le banche non so cosa può succedere in questo caso comunque uno stato d'emergenza non è una cosa che succede tutti i giorni l'unico modo per essere liberi dai vincoli dello stato sicuramente è avere delle criptovalute avere delle criptovalute per poter scambiare cambiare tra di noi e magari comprare cose oppure mandare dei parenti se hanno bisogno di aiuto a dei fondi un altro motivo è la guerra la guerra come vediamo adesso ormai ci sono anche dei video vediamo qua ci sono anche dei video ormai della guerra a parte la pubblicità comunque come vediamo ci sono già le prime immagini dei conflitti la gente che manda quindi ormai è innegabile il fatto che stiamo raggiungendo uno stato d'emergenza in quelle zone come vedete qua ci sono già stanno già muovendo carro armati stanno già mobilitando soldati guardate qua queste cose non si fanno per solo per scherzare quindi sicuramente qualcosa sta accadendo e il fatto che Putin e la Russia si metta a fare annunci sul come sopportare le criptovalute durante un momento del genere dovrebbe farvi pensare cioè invece di star lì la banca centrale Putin questi qua concentrarsi sulle criptovalute vi fa pensare perché fanno questi annunci queste cose questa gente che userà le criptovalute per finanziare la guerra e l'agente ucraino ovviamente che hanno un crollo nel paese a livello economico per proteggere le loro economie sicuramente useranno le criptovalute un po' come abbiamo visto in Libano e in Turchia quando crolla qualcosa quindi le criptovalute in verità è un hedge contro l'inflazione e contro le crisi economiche mondiali non capisco perché la gente vede il contrario ed è vero che quando ci sono annunci del genere crolla tutto questo è dovuto alle paure del mercato all'instabilità del mercato al fatto che comunque abbiamo una correlazione col mercato economico molto forte a lungo andare però dovete capire che queste cose vanno a equilibrarsi questo è un equilibrio che succede prima o poi quindi come abbiamo visto che a un certo punto il mercato degli stock andava giù e bitcoin andava verso l'alto c'è stata una specie di decouple dai due asset che succede prima o poi perché bitcoin e le cripto hanno un diverso intento in questo mondo non soltanto quello di speculativo ma ci hanno un intento anche di finanziare alcune cose oppure proteggersi da alcune cose come l'inflazione, come le guerre, come le crisi economiche quindi se tu per esempio sei in mezzo a una guerra e converti tutti i tuoi soldi in cripto poi scappi via e ti ne vai a vivere in Francia o vai a farti aiutare da un altro paese tu basta che accedi al tuo wallet e ricupri le tue cripto e i tuoi soldi senza aver paura che lo Stato ti abbia bloccato i fondi oppure che non so la tua moneta valga zero quindi ragazzi per me queste crisi brutto da dire comunque è un'opportunità sicuramente per chi sta accumulando perché poi si riveleranno quello che è cioè veramente un ottimo modo per fare hedge contro le crisi poi vabbè la Fed annuncia che a marzo ci sarà l'innalzamento del rate, spike rate non abbiamo molti dettagli ma sapevamo che arrivava come vedete queste notizie cominceranno sempre di più a avere meno impatto in senso che abbiamo già visto il 7.5% dell'inflazione che è altissima noi sappiamo che i bond di Stato negli Stati Uniti danno un 1.5% che non riesce neanche a coprire un terzo dell'inflazione quindi c'è veramente poca utilità nel voltare i bond di Stato a quel punto e quello che io penso è che tutti ritorneranno con questa situazione di nuovo sui stock e su Bitcoin adesso voglio farvi vedere anche perché allora questo è il grafico andiamo a vedere dov'è che si vede meglio questo è il grafico dell'S&P 500 quindi degli stock, di 500 compagnie di stock diciamo l'indice più grosso dal 1957, dalle crisi del 1957 come vedete tutte queste sono tutte crisi crash non so, abbiamo anche per esempio Cina debito, abbiamo avuto anche quella del real estate pandemie, non pandemie guerre bolle finanziarie, non bolle finanziarie abbiamo avuto di tutto c'è anche il Covid come vedete e se riuscite a vedere qua a grandi linee siamo sempre stati in un uptrend bene o male se voi compravate in qualunque punto di quell'epoca anche nel peggiore o nel migliore prima del peggiore sareste sempre stati comunque in un certo senso in un buon gain soprattutto se aveste investito nelle crisi perché se vedete qua piuttosto che investire nelle punte qua se voi ogni volta che c'è una crisi aveste investito cioè qui guardate aspettate un attimo cioè se ogni volta che c'è una crisi tipo 1, 2, 3 qua dove ci sono questi picchi all'in basso quindi ci sono queste specie di V che io ne parlo sempre le V recovery guardate qui questa queste V qua se voi aveste investito in questi punti strategici a quest'ora avreste quadruplicato i vostri i vostri soldi anche di più di quadruplicato probabilmente quindi la stessa cosa per Bitcoin se noi andiamo a vedere Bitcoin su un grafico più ampio per esempio il settimanale mettiamo sul logaritmico settimanale se voi vedete ok e lo confrontiamo con questo Bitcoin ha la stessa sintonia cioè nel senso della crescita quindi ogni volta che c'è il cosiddetto che io come sapete non credo molto a questo beer market come vedete ci abbiamo avuto delle zone di buy molto forti guardate qui ci abbiamo avuto delle ottime zone di buy per Bitcoin qua per esempio vedete qua abbiamo un altro affosso vedete e continuerà così sarà sempre così ragazzi sempre così quindi il mio intento è qua farvi vedere farvi zoomare un po' che certa gente si dimentica di zoomare oltre allo zoom avete ricordato una cosa c'era una shooting star che si è rivelata sul chart quello settimanale questa qui questa è una shooting star e solitamente questa è una candela bearish quindi una candela che significa un probabile cambio di trend o reversal quindi sicuramente andare verso il basso però questa potrebbe essere svalidata se questa chiude così o anche più alta chiude così sarebbe svalidata se questa chiudesse in rosso più bassa così probabilmente la validerebbe però in questo momento vedo che sta per essere svalidata che non è una cosa tanto male però è un segnale è un segnale che bisogna guardare infatti qua ne abbiamo avuto una simile come vedete c'è stato un flash c'è stata un'altra poi siamo andati su una molto simile questa è una simile a una shooting star però non così perché di solito non dovrebbe avere questa coda qui però come vedete poi ci è riportato verso il basso quindi da tenere d'occhio anche questa roba come l'hammer questa è un hammer candle e l'hammer candle significa che dobbiamo andare verso l'alto quindi quando individuate questi pattern secondo me anche non vengono validati è un segnale che a lungo andare prima o poi ci sarà un rintracciamento questo è come io li interpreto e come li uso solitamente per i miei trade e comunque andiamo avanti allora come avete visto despite comunque quello che può succedere sul mercato prima o poi c'è sempre un recupero quindi quando noi abbiamo questi affossamenti a vuo queste cose a vuo io dico sempre ai ragazzi le mando i punti critici dove comprare perché comunque anche comprare i punti giusti è anche una strategia per massimizzare ancora di più il valore del tuo trade come quando abbiamo rifatto l'analisi pensando che Bitcoin doveva andare ai 30.000 invece avevo trovato un supporto molto molto forte per chi si ricorda ai 33.000 infatti poi molti sono entrati ai 33.000 con me e in più siamo rientrati di nuovo a 36.500 quando abbiamo individuato la Hammer quindi abbiamo avuto due posizioni in ampiamente profitto fantastiche stessa cosa su Ethereum che è successa poi Bitcoin 30% recovery in 2 weeks quindi Bitcoin ovviamente vediamo i whales quindi i grandi investitori che continuano ad accumulare come vedete qua questa è la linea blu di quelli che hanno un wallet che ha più di 1000 Bitcoin e continuano a accumulare guardate qui il prezzo va giù e loro continuano a accumulare no? il prezzo va giù e continuano a accumulare e questo è quello che vi ho detto io cioè la differenza fra il primo crash e questo crash che io la chain analysis ho sempre detto ragazzi il motivo per cui andiamo a girare la correlazione con lo stock market e tutte le notizie negative che ci sono questo è il motivo non perché Bitcoin fa schifo qualcuno lo sta svendendo in verità sulla on-chain analysis avevamo dei grandi dati a dirci nessuno sta svendendo anzi sta succedendo al contrario stanno accumulando e come vedete qua questa è una divergenza cosa vuol dire divergenza? vuol dire che c'è un dato che dice una cosa e uno che dice un'altra che solitamente dovrebbero andare insieme ma questa volta divergono e la cosa migliore è una divergenza e questa è l'opportunità da cogliere che tu sai che prima o poi questi dati andranno a combaciare di nuovo quindi il prezzo andrà a combaciare il fatto che c'è un accumulo dietro Bitcoin e la chain quindi fate le vostre valutazioni e infatti qua parlano di diversion on-chain diversion appunto ne stavo giusto parlando adesso on-chain diversion e come vedete qua queste sono le zone del on-chain diversion dove dopo il prezzo ha ripreso perché come vediamo per esempio qua per esempio vedete in rosso c'è questa divergenza qua non c'è perché abbiamo avuto un po' di sell vedete qua un po' di sell e il prezzo è andato giù quindi c'è stata una vendita e un sell sia sull'on-chain sia qua e poi qua c'è stato cominciato ad esserci una divergenza quindi questi sono dati che vi aiutano voi se siete investitori a lungo periodo perché molti dicono da molti fanno ah ma io holdo non mi interessa io holdo io holdo diamond hand sì ma holdare basta non è una strategia vincente non ha senso holdare basta bisogna stare dietro dove si investe capito? cioè comprare vero Bitcoin a diversi livelli ma capire dove entrare nel livello giusto capire quando è il momento di comprare ancora di più e quando è il momento di non comprare questa è una strategia per massimizzare la vostra il vostro holding sicuramente quindi qua ci sono altri dati come vedete poi magari adesso questi ne ho parlati spesso nella base tecnica Ethereum investment product register first weekly inflow in 10 weeks quindi ricominciano ad entrare i soldi nei prodotti di Ether e nei progetti come vediamo dopo che c'è stato l'escape la gente ha cominciato a scappare abbiamo rivisto di nuovamente gente ritornare con un inflow di denaro come ho sempre detto ragazzi non ignorate queste cose lasciate stare chi svende quando loro vendono noi entriamo e compriamo ok quindi grayscale quindi ho parlato anche di grayscale come sta aggiungendo ovviamente nuovi coin tra cui io spero anche Gala in grayscale e holding under management shaper o investment vediamo trust forse questo è meglio che ne faccia un video a parte per parlare di grayscale poi andiamo a vedere allora total value lock 207 miliardi di dollari total value lock e come vi ho detto la cosa migliore quando ci sono questi dump di mercato che durano un mese o che durano in sei mesi o che durano in un anno è lo staking ragazzi staking liquidity tutte queste cose che piano piano stiamo andando a far conoscere ai ragazzi nella community investire in queste cose i vostri coin non tenete piattaforme anche di lending prestare dare coin cioè tutte queste cose sono un ottimo modo per mantenere il vostro holding visto che comunque non avreste venduto comunque e in più guadagnarci sopra ottime ottime rendimenti diciamo perché alcuni danno fino al 7 all'8 al 10 io addirittura sui miei GBP cioè senza scambiarli neanche in Bitcoin o in Ethereum ci ricevo già degli interessi quindi ottime opportunità sul mercato ragazzi e approfittatene perché siamo ancora in pochi in questo mercato prima che diventiamo in tanti ovviamente sapete più cresce questo mercato più questi tassi di interesse che ci danno sulle cripto diminuiscono poi venture capital quindi i fondi di investimento che hanno investito nelle criptovalute come vediamo c'è stata una crescita esponenziale addirittura qua abbiamo toccato i 30 miliardi alcuni dicono che sono 32 miliardi qua dicono 27.4 comunque siamo sui 30 miliardi in generale quindi dove hanno investito è la cosa che voi dovete capire che questi non hanno investito in Bitcoin e basta questi hanno investito in NFT gaming metaverse blockchain altre blockchain quindi questa gente non investe solo in Bitcoin investe in tutto il mondo cripto e sono sempre alla ricerca ho fatto anche un video apposta sui venture capital e quanta allocazione hanno per ogni progetto e alcuni progetti ovviamente ho detto forse meglio che siano così pochi perché comunque sapete questi sono i primi che svendono senza proprio pensarci due volte appena c'è qualche problema sul mercato oppure appena devono portare un po' di risultati poi Animoca brand price launched ok quindi abbiamo Animoca abbiamo anche Animoca che entra nel play to earn e ragazzi il play to earn io ho intenzione di iniziare una sezione del play to earn gestita da uno dei ragazzi Nico che dovrà educare la gente sui play to earn perché il play to earn è una possibilità di fare incompassivi assurda a parte che se avete dei ragazzi a casa comunque potete farli già esplorare questo mondo e sarebbe un ottimo modo per loro per guadagnare qualcosina che poi certa volta guadagni veramente tanto non qualcosina e poi un ottimo modo anche magari per comprare terreni far sì che altri giocatori dall'altra parte del mondo contribuiscano al tuo play to earn e possono farti guadagnare quindi ottime ottime prospettive per il play to earn ormai vedo che tutte le compagnie più grandi anche di gaming soprattutto sono entrate in questo play to earn e ci stanno investendo perché secondo me da qua a 5 anni tutti i giochi saranno play to earn non ha senso perdere 10 ore davanti a un gioco cioè ha senso e non ce ne sono alcuni piace senza guadagnarci sopra niente ma se puoi guadagnarci invece cioè pensa che tu magari già giochi perché ti piace giocare ok e più mentre giochi ti danno quei 10-20 euro al giorno ok quindi stanno parlando di quasi dai 300 ai 600 dollari al mese per giocare al tuo gioco preferito no quindi sicuramente i play to earn avranno una locazione strategica nel metaverse nel gaming quindi da non ignorare noi cerchiamo di filtrare i migliori di capire perché al momento ci sono tantissime cose che escono soprattutto in gala abbiamo visto un sacco di play to earn uscire ancora tutti nuovi ancora tutti in development però poi usciranno bisognerà capire qual è dove puntare su quale cavallo al momento stiamo speculando un po' perché ovviamente in progetti così nuovi non puoi fare altro che speculare comunque guardare il team capire se il team è buono capire se il team ha fatto una cosa giusta capire se l'idea è buona questo è quello che possiamo fare perché poi saremo tra i primi ad adottare questi giochi sicuramente poi per quanto riguarda Cardano Ardana Announce Major Cardano DeFi News allora Cardano ragazzi come ho sempre detto a parte che adesso c'è la stablecoin che sta arrivando su Cardano ma oltre questo quello che voi dovete capire Cardano io ho detto che lui ancora non ha niente di pronto a livello di DeFi a livello di NFT a livello di Decentro cioè anche il DEX è stato lanciato da poco quello di SushiSwap e quindi ragazzi Cardano hanno avuto un sacco di valore un sacco di valore soltanto facendo non avendo niente di pronto come vedete adesso siamo un 15% su ADA oggi mi sa che avevo dato anche un segnale su ADA comunque 121 milioni total value locked questo come vedete sta aumentando piano piano vedete questa linea curvata questo continuerà sempre di più ad aumentare nei progetti capito Dominance per il momento ci abbiamo su SundaySwap però aumenterà ci saranno altri DeFi altri giocatori in campo perché comunque non è da ignorare Cardano non è da ignorare ragazzi cioè veramente io lo dico sempre so che non è il migliore a livello di performance perché tutti sono entrati quando era un dollaro e quindi vi sembra veramente che non vada più via da quella però vi ricordo che nel 2021 Cardano era un centesimo quando io l'ho comprato due anni fa era pochissimi centesimi quindi per me ha fatto tantissimo e deve ancora fare tanto capisco che chi è entrato quando era un dollaro e cinquanta due dollari adesso lo vede come il peggio investimento credetemi che a lungo andare anche Cardano vi darà di nuovo un motivo di ricredervi credetemi io queste cose le ho viste avvenire le studio apposta se no non riuscirei a vivere di questo e Cardano uno di quelli da non ignorare assolutamente io i miei Cardano non li tocco neanche morto proprio anzi mi danno il 5% di ritorno sono apposto così sono felice li lascio lì che dormono e fanno il loro lavoro comunque ragazzi per il momento è tutto per quanto riguarda l'analisi tecnica news e un po' di notizie in giro e vi ricordo che abbiamo aperto anche il Discord un Discord a parte questo è un Discord che non c'entra niente in quello dei segnali un Discord per gli studenti dell'Accademia perché il piano futuro adesso lo sta montando nella fase 2 del piano a parte adesso lanciare il corso di trading però a fare anche future lezioni quindi dedicare del tempo a delle lezioni live e gli studenti possono aiutarsi tra di loro quindi hanno i loro canali per ogni cosa quindi possono studiare fare gli studi in live quindi sarà un ottimo posto dove arricchire le vostre conoscenze quindi se volete farne parte entrate nell'Accademia scegliete un corso con qualunque corso avete diritto ad entrare a questo Discord e niente per il resto ragazzi ci vediamo alla prossima puntata grazie a tutti